Inchiesta abusi sessuali. Il Papa ha commissariato la congregazione dell'Istituto Don Provolo, la cui casa madre è a Verone, la cui sede di Mendoza in Argentina, da qualche mese sotto inchiesta e sotto sequestro per abusi sessuali su almeno 22 bambini sordomuti. Alberto Bociatei, vescovo di La Plata, è stato infatti designato, si legge nella nota vaticana dell'Annunziatura di Buenos Aires, commissario apostolico per tutte le comunità e i membri della congregazione. L'inchiesta sull'Istituto di Mendoza, per cui a breve comincerà il processo, ha condotto all'arresto, tra gli altri, del prete veronese Don Nicola Corradi, da anni in Argentina, ma già al centro di sospetti casi di pedofilia, durante la sua permanenza all'Istituto Provolo di Verona. Se i fatti di Mendoza saranno accertati, la chiesa sarà implacabile, qui nessuno potrà scappare, ha annunciato Monsignor Bociatei. Francesco Zanardi, presidente della rete L'Abuso, che da anni, assieme all'Associazione Sordomuti Provolo, denuncia le presunte violazioni sessuali all'interno della congregazione, parla di atto dovuto e auspica che in caso di condanne possano esserci sviluppi anche per i fatti che sarebbero accaduti al Provolo dagli anni 50, agli anni 80. Il fatto che la magistratura intervenga già metterà dei paletti nel momento in cui scatteranno le condanne, diciamo, sul lato argentina, perché sul lato italiano abbiamo appunto diversi esposti nei quali si dimostra che i vertici dell'Istituto Provolo e della diocesi di Verona sapevano da anni e si dimostra che ci sono state delle responsabilità omissive, anche se non potranno più essere, diciamo, riportati in tribunale i processi, purtroppo, delle vittime che hanno già subito, perché in quel caso sono prescritte, su questo versante, diciamo, sulle responsabilità omissive che ha avuto o la diocesi o l'Istituto nel trasferire, ecco, a Rabi, che era già stato ampiamente denunciato e sono notevoli, ecco. Grazie.